Luca e i suoi amici sono partiti dal rifugio per continuare la gita. Oh ragazzi, portatevi via i vostri rifiuti. Nello zaino bisogna avere cibo e bevande a sufficienza, carta e GPS, un key di primo soccorso e un telefono in caso di bisogno. Ah, e ricordatevi di bere spesso, l'idratazione è importante. Il meteo va sempre rivalutato durante la gita. Controllare l'evoluzione del radar ci dà un aggiornamento in tempo reale sulle condizioni. Un buon uso dei bastoncini, specialmente in discesa, migliora l'equilibrio. Buona gita! A伍� важ rhythm A伐